Il Milan, questi palloni anti, anche quando in questi ultimi quattro minuti hanno messo palle in mezzo sempre qualche spizzata del giocatore d'Ottorino come in questo caso sul secondo palo Moreno e sì, clamoroso, clamoroso, lo tiene già presente sì, poi anche Belotti tiene paletta, guarda lì, tanto fa strappare la maglietta devi guardare che c'è già il contatto ancora prima che la palla la Fiorentina, un po' così, Belotti contro Donnarumma Sissi Adamato, pronto il gallo, va Belotti, col destro, Donnarumma miracolo nel finale, ferma Belotti e salva il Milan, sentite Sanzino è finita, vinto il Milan